Buongiorno, bentrovati al salotto acquatico di Swim Beads, appena finito di accarezzare Mafaldina che è un gatto peloso, di fatti è ripieno di pelo Sì, no, Mafaldina è una forza della natura Buongiorno Alex Di Giorgio, l'uomo nuovo, eh beh insomma, no, voglio dire, no Sì, è vero, da settembre mi alleno con Federica Ti alleni e basta, sì, no perché, no, voglio dire, adesso facciamo le persone seri Raccontiamo a tutti quanti gli amici, colleghi giornalisti che hanno ammesso che tu sei l'uomo nuovo, sei anche insomma, sempre ragazzo, insomma, seguitissimo Hai un sacco di fan sperando Bene Vero? Fidanzato? A piacere No No, diciamolo, quindi sei libero free, faccio parte degli scherzi Federica, che oggi qui incontra i Mafaldini, ti ha portato perché tu ti sei allenato fino a ieri, no, con lei? Sì, sì, no, io da settembre condivido, sono al suo fianco di corsia E anche fuori dall'acqua, certo, certo, condividiamo dentro e fuori dall'acqua perché siamo un gruppo, io, Federica, Pippo e Matteo Bellotosto Intitolato Pull Metal Jugger Senti, Pull Metal Jugger, però c'è un punto A questo europeo di Giorgio, ce l'ha E allora, noi che, sai, normalmente portano il tapiro, a Federica portano il tapiro Noi ti abbiamo portato un oggetto che dovrebbe portare bene perché, insomma, da qui al prossimo, diciamo, prossimo futuro Insomma, Alex di Giorgio dovrebbe essere una pedina fondamentale di questa nazionale Lo vuoi far vedere? Il cappellino Il cappellino porta fortuna Ecco, allora metti tu in testa così fa anche bene Alex di Giorgio indossa perché questo porta bene, dicono, su inizia porta bene E col cappellino, diciamolo, passino questi, questi, c'è un po' di movimento qui perché attorno a Federica c'è sempre molto, 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 come dire, interesse Passino questi europei, ma rilanciamo tutto verso la prossima strada Ci sono i campionati italiani dopo quattro giorni e puntiamo a fare bene lì perché, comunque, gli europei di Vasca Corta era una tappa di passaggio, non di arrivo Per quanto possa, comunque, dispiace, però non era una, non era una tappa fissa Cioè era una tappa presa di passaggio perché, comunque, l'obiettivo quest'estate sono gli europei a Berlino a metà agosto Senti, preferisci la Vasca Lunga o la Vasca Corta? Domanda che è quasi lunga Lunga Vasca Lunga Lunga è una tappa Vasca Corta, siamo un po', diciamo, ci sono molte cose che vanno corrette, tra virate, eccetera Chi dice Asterix, Lucas, per gli amici? Di te, tu parli con lui, è vero che hai un rapporto diretto con Giunta, ma? Sì, ho avuto modo di parlarci quando stavamo a Narbonne, è una persona allegra sicuramente e, no, comunque, mi ha detto che ho molti margini E i margini arriveranno E quindi, spero Oggi è Maffeldina Day, festeggiamo, tu domani ritornerai se non ti avverò, ti allenerai Il cappellino te lo metto ogni tanto, perché questo porta un grande Porta fortuna Porta fortuna Vediamo Ragazzi, Alex Di Giorgio è qui Alla prossima, sicuramente Col botto Col botto Mi raccomando Alla prossima Ciao Ciao